ciao a tutti mi chiamo mauro meloni sono arbitro del di baseball di serie b nazionale arbitro dal 2018 appartengo alla dr a sardegna e oggi in questa sessione vi parlerò del battitore designato il battitore designato è una figura che è stata inserita abbastanza di recente rispetto a quanto rispetto al tempo dal quale esiste il baseball però in realtà è un ruolo che è entrato in discussione da tanto tempo e se ne parla infatti le prime tracce si hanno nel 1906 perché questa discussione è nata principalmente dai criteri di selezione dei lanciatori i lanciatori come possiamo immaginare vengono selezionati da sempre per la loro efficacia su sul lancio sull'aspetto difensivo del loro ruolo molto spesso lasciando passare in secondo piano l'aspetto dell'attacco la battuta soprattutto in alcuni casi i lanciatori molto forti sono magari stati messi in difficoltà da colleghi avversari oggetto magari di lanci sulla loro persona per cercare o di condizionarli mentalmente o addirittura in alcuni casi per cercare proprio un infortunio un condizionamento fisico la necessità di salvaguardare i lanciatori insieme al fatto di ricercare dello spettacolo in più la possibilità maggiore di segnare punti quindi sollevare in generale il livello della della partita del gioco della sua attrattività hanno diciamo fatto crescere la necessità di inserire questa figura del battitore designato appunto che batte al posto del lanciatore per definizione nonostante se ne parli da così tanto questa figura arriva a proda nella major league baseball solo nel 1973 e solo nel campionato dell'american league il battitore designato fa la sua comparsa per i motivi che abbiamo appena detto ovvero aumentare il livello dello spettacolo aumentare la possibilità che si segnano dei punti e salvare diciamo salvaguardare e risparmiare i lanciatori come figura diciamo che funge un po d'alter ego al lanciatore perché gioca la parte offensiva del suo ruolo e quindi batte al suo posto al posto dei suoi eventuali sostituti vedremo che il battitore designato in qualche modo è collegato a doppia mandata con il lanciatore ma anche una sua indipendenza nel ruolo questa regola che gestisce il funzionamento del battitore designato inserita nel regolamento tecnico di gioco italiano alla regola 5.11 ed è richiamata anche dal manuale dell'arbitro di baseball alla sezione 5.5 quando è stato inserito il battitore designato nell'american league ci si sarebbe aspettato che la national league avrebbe seguito ma così non è stato perché la national league ha ritenuto che il battitore designato in qualche modo snaturasse il gioco il nostro gioco preferito cioè il baseball e quindi nonostante poi le due squadre si siano affrontate ogni anno alla fine le due leghe abbiano fatto affrontare le squadre vincenti alla fine di ogni di ogni campionato per decidere la vincente dell'euro series e per 46 anni questo non è cambiato fatto divertente che il battitore designato viene utilizzato solo quando le due vincenti di lega si confrontano nelle partite casalinghe della squadra dell'american league diciamo quindi che nonostante vari tentativi la discussione che va avanti da tanto tempo nella national league non c'è mai stato necessario consenso tra le squadre appartenenti per poter inserire il battitore designato fino a quel momento compreso l'ultimo tentativo fatto nel 1980 tutte le varie discussioni relative ad esso erano state liquidate con frasi del tipo il battitore designato corrompe la purezza di un gioco altrimenti molto elegante oppure non c'è niente di più anti americano che il battitore designato è facile insomma intuire la natura conservatrice e poco progressista della national league che tende a mantenere lo stato delle cose nel 2020 c'è stato chiaramente ci sono state chiaramente una serie di difficoltà da affrontare legate alla pandemia da covid 19 quindi ha avuto diciamo la sua comparsa per la prima volta anche in national league questo è stato dovuto al fatto di facilitare l'ingresso in partita di più soggetti quindi dare la possibilità visto il numero inferiore di gare di poter giocare a più persone ed è stato diciamo un esperimento per il quale non sappiamo ancora se verrà implementato o meno nella stagione successiva quindi quest'anno nel 2021 in questo caso stiamo ancora aspettando di sapere come test nella national league era stato utilizzato solo altre due volte nel 75 nel 76 ma solo per il periodo relativo allo spring training e poi comunque quel test non ha avuto seguito per capire bene diciamo la la dualità del ruolo soprattutto di un lanciatore che è molto bravo nel suo ruolo sul monte ma non è altrettanto bravo in battuta permettetemi di presentarvi randy johnson è un giocatore che è molto importante per la major league ha avuto 22 anni di carriera il suo ruolo era quello di pitcher il diciamo che è andato anche qualche volta a battere ma di questo parleremo tra poco vediamo che non è stato proprio irresistibile come battitore lungo la sua carriera ha giocato in entrambe le leghe raggiungendo molti traguardi molti premi uno dei quali poi vedremo che è veramente unico qua abbiamo scritto più unico che raro ma in realtà è un premio del quale può freggiarsi solo lui invece una cosa per la quale era ricordato e menzionato per un certo periodo era solo per il fatto di avere colpito e ucciso con il suo lancio una colomba che si trovava a volare proprio davanti al piatto di casa base in quel momento questa immagine per chi soprattutto per chi ha visto il video e ha visto trasformarsi quella festival in una nuvola di piume rimane indelebile nella memoria per fortuna le sue azioni in campo hanno fatto presto dimenticare questo incidente e attualmente Randy Johnson è uno dei giocatori più di valore ricordati anche se il suo ritiro è avvenuto già più di dieci anni fa dicevamo che come battitore non è stato proprio irresistibile tant'è vero che non è stato il peggior battitore della major league solo per poche posizioni possiamo dire che quelli che hanno avuto una carriera di abbattitore peggiore della sua si possono contare sulle dita di una mano qualche volta ha battuto valido quindi proprio parliamo di poche occasioni può vantare un home run nella sua carriera c'è da notare che in occasione di quell'home run i meteorologi fecero segnare 12 miglia orarie di vento verso il campo esterno quindi in qualche modo potrebbe essere stato aiutato da questo la sua media battuta era di 125 quindi stiamo parlando di un battitore come ho già detto prima tutt'altro che irresistibile quello che ce lo fa ricordare è sicuramente la sua efficacia sul monte di lancio quindi sicuramente non deve non viene ricordato come battitore ma come lanciatore tanto è vero che come lanciatore ha ottenuto tutta una serie di riconoscimenti ve ne cito solo alcuni perché la lista sarebbe veramente lunga ha lanciato uno hitter nel 1990 è stato convocato dieci volte nella all star game della major league ha vinto le world series nel 2001 con gli arizona diamondbacks è entrato nel club dei 300 ovvero di quei lanciatori che possono freggiarsi di 300 vittorie in carriera tra l'altro una media vittoria di punto 646 quindi comunque molto alta è un risultato sicuramente notevole nel 2004 ha fatto registrare quello che fino ad allora era il lancio più veloce mai effettuato in major league cioè 102 miglia orarie di lancio un aneddoto divertente nel periodo in cui si parlava di armi da tenere in casa venne intervistato per sapere se aveva o meno una pistola a casa e la sua risposta fu divertente perché disse che a fianco al letto teneva una sacca di palline e che sarebbe stato meglio per chi eventualmente avesse voluto irrompere in casa sua indossare un caschetto da battitore perché avrebbe mirato alla testa questo è il primato del quale vi parlavo prima cioè al momento lui è l'unico lanciatore al mondo ad aver battuto tutte le squadre di major league sia della american league sia della national league quello per cui è ricordato principalmente però il suo capolavoro ovvero il perfect game che lanciò il 18 maggio 2004 alla veneranda età di 40 anni quando indossava la maglia degli arizona diamondbacks c'è da notare che in arizona diamondbacks militando in national league non gli consentirono di avere un battitore designato per cui i suoi quattro turni alla battuta effettuati in quella partita si conclusero tutti con con quattro strikeout tant'è vero che per chi ha visto la partita subito si può rendere conto della inefficacia anche del ruolo di battitore dall'altra parte permettetevi di presentarvi david ortiz david ortiz è un giocatore che ha 20 anni di carriera in major league ha qualche volta ricoperto il ruolo di prima base ruolo difensivo di prima base ma il suo ruolo principale è quasi esclusivo è stato quello di battitore designato ha giocato con i minnesota twins e poi successivamente con i boston red sox entrambe squadre di american league e quindi ha potuto ricoprire questo ruolo per tutta la sua carriera in questo ruolo infatti ha dato proprio il suo massimo e attualmente è il battitore designato più premiato di sempre alcuni dei premi che raggiunto in questo ruolo sono anche lui dieci convocazioni allo star game di major league tre world series vinte tutte e tre con i boston red sox sette silver slug reward che sono è un premio che viene dato ai migliori battitori tutti e sette vinti come battitore designato addirittura nel 2013 è stato il most valuable player del world series sempre con la maglia dei boston red sox immaginate che cosa sarebbe combinare i due ruoli the big unit sul monte di lancio e big papi invece alla battuta avendo questi due esempi ci viene chiarito immediatamente quale può essere l'importanza di utilizzare questo ruolo in una partita per quanto riguarda la regola si spiega abbastanza facilmente il battitore designato è semplicemente un battitore che può essere designato dal manager per battere al posto del lanciatore e dei suoi sostituti questo può avvenire sia per parte della partita che per tutta la partita le condizioni perché questo possa essere possibile sono prima di tutto che venga dichiarato nel line up che viene consegnato all'arbitro capo prima dell'inizio della partita se non viene dichiarato nel line up quella squadra non potrà utilizzare il battitore designato per tutta la partita una volta che viene dichiarato sulle nap il suo obbligo è quello di completare almeno un turno alla battuta prima che venga rimosso sostituito potrebbe anche essere sostituito con un altro battitore designato e questo non influirà minimamente sulla rotazione dei pitcher per quanto riguarda il battitore designato abbiamo detto che deve essere dichiarato nel line up un esempio di un line up come questo che abbiamo in questa foto per esempio non prevede il battitore designato abbiamo line up che riporta nove giocatori se ci viene consegnato un line up del genere all'inizio della partita sappiamo che quella squadra non utilizzerà il battitore designato per tutta la partita notiamo un attimo parliamo di questo line up perché così vediamo quali sono le indicazioni e quali no per esempio se guardate la quarta colonna dove ci sono le posizioni difensive queste potrebbero anche non esserci secondo il nostro regolamento è una pura cortesia da parte del manager indicare le posizioni difensive e soprattutto in un line up a 9 giocatori non è necessario che vengano indicate una cosa che viene rispecchiata anche nel caso in cui il line up riporti 10 posizioni perché vediamo nella decima posizione verrà messo il lanciatore tutte le altre posizioni potrebbero non esserci ad eccezione del battitore designato un piccolo inciso ci permette di capire che sarà una cortesia da parte del manager anche l'indicazione degli eventuali sostituti perché loro devono risultare nel l'elenco dei giocatori ma non necessariamente nel line up nell'ordine di battuta questo non impedisce che loro possano entrare o meno in gioco la loro presenza o assenza se ci sono chiaramente sarà una cortesia nei nostri confronti perché ci permette di tenere meglio la successione dei campi per quanto riguarda il line up consegnato con 10 posizioni è necessario che vengano indicati quantomeno il lanciatore e il battitore designato le altre posizioni difensive potrebbero anche mancare ma se non sono indicate queste dobbiamo cercare di sanare la cosa prima che la partita se abbiamo detto il battitore designato non è dichiarato prima dell'inizio della partita non potrà essere usato per tutto il gioco e nel momento in cui venisse rimosso il battitore designato dalla partita non inteso come giocatore con nome cognome ma proprio come ruolo di battitore designato non potrà più essere utilizzato per tutto il resto della partita nel momento in cui ci troviamo a casa base ad effettuare lo scambio dei line up il meccanismo deve essere rispettato come segue perché in base ad ogni gesto seguono dei meccanismi che si sviluppano ovvero nel momento in cui ci troviamo a casa base il primo line up che viene consegnato è quello della squadra di casa sappiamo che con questa consegna la squadra di casa consegna nelle mani dell'arbitro anche la responsabilità del campo ma questo non rende ancora gli ordini di battuta ufficiali riceve l'ordine di battuta anche da parte della squadra ospite e a questo punto vanno fatte le opportune considerazioni prima di tutto controlliamo il line up vediamo che siano completi se per esempio riportano otto giocatori faremo correggere l'errore se per esempio riportano 9 giocatori o 10 giocatori chiederemo conferma dobbiamo fare in modo che non ci siano dati ambigui per esempio che non ci siano numeri di casacca che si ripetano cognomi uguali senza specificare l'iniziale o il nome completo qualsiasi cosa che ci possa far confondere un giocatore con un altro le posizioni difensive sono indicate questo chiaramente non è obbligatorio però se ci sono una cortesia nei nostri confronti così come lo è l'eventuale presenza dei sostituti riportano 9 o 10 giocatori perché se riportano 10 giocatori dobbiamo verificare che siano indicati il lanciatore e il battitore designato chiederemo conferma dei dati soprattutto faremo una bella attenzione che non manchi niente a quel punto con la formula che diciamo sempre se non intendete fare modifiche da questo momento sono ufficiali ricordiamoci che il momento reale nel quale diventano ufficiali il momento dello scambio cioè nel momento nel quale consegniamo il line up della squadra di casa la squadra ospite viceversa facciamo attenzione perché un eventuale controllo superficiale da parte nostra prima dello scambio dei line up potrebbe crearci dei problemi per cui controlliamoli bene se ci sono degli errori li facciamo correggere prima dello scambio perché se invece ci sono degli errori per esempio nel caso della regola che stiamo trattando oggi non è indicato il battitore designato abbiamo due scelte per poter sanare in seguito questa questa mancanza prima di tutto va notato che la mancanza dell'indicazione del battitore designato anche in presenza di un line up con 10 giocatori determina che quella squadra non possa usare il battitore designato per tutta la partita perché nel caso in cui la squadra si sia schierata in difesa il lanciatore quindi colui che prende posizione in pedana prenderà sul line up il posto dell'unico giocatore che non si sarà schierato in difesa che quindi probabilmente la squadra aveva intenzione di utilizzare come battitore designato se invece non si è ancora schierata in difesa o magari sta svolgendo la parte di attacco sarà il manager in difetto che dovrà indicare quale sia la posizione nel line up nella quale inserire il lanciatore quindi depennare il giocatore che era inserito in quella posizione facciamo finta invece che tutto vada bene inizia la nostra partita con il battitore designato e il lanciatore correttamente indicati questo è il line up che abbiamo nelle nostre mani leone inizia la partita sul monte in qualità di lanciatore invece dario prende il suo posto nell'ordine di battuta ed è quarto sul line up durante un momento qualsiasi della partita per esempio qua vi riportato il quarto inning come carlo completa il suo turno alla battuta si presenta nel box mauro che quindi per effetto della regola sulle sostituzioni rimpiazza dario al posto al suo posto nel line up e prende il suo posto come battitore designato questo determina prima di tutto che depenniamo mauro dal dall'elenco dei sostituti depenniamo dario dal line up e inseriamo come sostituto mauro che da quel momento diventa il battitore designato notiamo che leone rimane comunque al suo posto come lanciatore senza che questo crei nessuna modifica per quanto riguarda la difesa successivamente durante il sesto inning leone viene rimosso dalla partita e renato entra al suo posto in questo caso depenniamo renato lo inseriamo come lanciatore specificando il suo ruolo mauro continua a battere come quarto in battuta in qualità di battitore designato durante l'ottavo inning quando carlo completa il suo turno alla battuta entra nel box del battitore renato questo può farlo perché nonostante renato fosse già in partita in qualità di lanciatore non ha ancora preso la fase di preso parte alla fase di attacco quindi può entrare al posto di mauro che quindi viene rimosso viene rimossa la figura del battitore designato da quel momento renato oltre a lanciare in fase di difesa batte come quarto in battuta e chiaramente la figura del battitore designato è rimossa da questo line up e non potrà più essere utilizzata per il resto della partita ricordiamoci che il fatto che un giocatore si presenti dentro il box senza essere annunciato viene considerata una sostituzione legale agli effetti del nostro regolamento questo vale a meno che non sia un giocatore già inserito nel line up perché a quel punto entreremo in un'altra regola che quella del battitore fuori turno che non viene trattata in questa sessione un altro esempio di sostituzioni è per esempio il fatto che sempre condizioni iniziali uguali con leone a lancio e dario come battitore designato durante il terzo inning ettore cioè il ricevitore si infortuna e può darsi che il manager non abbia nessun altro giocatore adatto a ricoprire il ruolo di ricevitore tranne dario che però è già schierato nel line up come battitore designato che cosa possiamo fare cosa può fare il manager il manager può annullare il ruolo di battitore designato assegnando un ruolo difensivo a dario che nella fattispecie è quella di ricevitore togliendo quindi dalla partita ettore in quanto sia infortunato che cosa succede che il lanciatore leone deve entrare nel line up al posto del giocatore sostituito in questo caso il battitore designato come figura viene rimossa dalla partita non può essere utilizzata per tutto il resto chiaramente questa regola ci dice che nel caso in cui il battitore designato assuma un ruolo difensivo e quindi sostituisca un giocatore in difesa mantiene il suo la sua posizione sul line up ma il lanciatore deve prendere il posto del giocatore sostituito per quanto riguarda invece le sostituzioni multiple sono normate sempre dalla stessa regola e ci dice che nel caso in cui nell'inizio di un inning in difesa entrino nel campo due giocatori nuovi quindi due sostituti sarà necessario che venga specificato chi sostituisce l'uno chi sostituisce l'altro perché abbiamo la necessità di specificare chi sarà il battitore scusate chi sarà il lanciatore che quindi verrà sostituito in fase di attacco dal battitore designato e chi invece prenderà il posto di un sostituito sia in difesa che in attacco questo perché la regola ci specifica che non possono essere fatte sostituzioni multiple che determinano determinino un cambiamento nella rotazione del battitore designato un esempio di sostituzione che possiamo fare è questo sempre lo stesso line up quindi con leone al lancio e dario quarto in battuta il manager della squadra avversaria durante il primo inning decide di cambiare il pitcher chiaramente può farlo in accordo a una regola specifica se lo fa prima che il battitore designato abbia preso parte al suo turno in battuta questo dà una possibilità al manager in attacco di poter decidere di sostituirlo perché magari dario era ritenuto adatto a fronteggiare il primo lanciatore ma nel momento in cui esso viene sostituito magari il manager ritiene per farvi un esempio sandro più adatto a fronteggiarlo e allora lo sostituisce facendo entrare sandro in qualità di battitore designato al posto di dario questo è sancito dalla regola che dice che il battitore designato come abbiamo anticipato prima deve prendere parte almeno a un turno di battuta deve completare soprattutto almeno un turno di battuta a meno che la squadra avversaria non cambi i lanciatori piccolo aspetto tecnico è chiaro che pur non essendo entrato mai in partita dario viene considerato un giocatore sostituito e quindi questo determina che non possa più essere utilizzato per tutto il resto della partita uno stesso effetto riguarda questa sostituzione avverrebbe se sandro entrasse a sostituire dario dopo che magari dario è riuscito a battere valido comunque conquistato la prima base la sostituzione in questo caso avverrebbe nel momento in cui il manager chiedesse chiedesse tempo quindi ci fosse una situazione di palla morta e sandro andasse a rimpiazzare dario sulla prima base per esempio da quel momento in poi sandro assumerebbe il ruolo di battitore designato un altro esempio di sostituzioni sempre con lo stesso line up e le stesse condizioni iniziali durante il terzo inning quando ignazio completa il suo turno alla battuta entra nel box del battitore paolo paolo quindi rimpiazza angelo prendendo il suo posto nel line up quindi battendo come primo sul line up da notare che non è stata ancora decisa la posizione in difesa che assumerà paolo e quindi in questo caso lasciamo la casellina vuota nel momento in cui inizia il leaning in battuta paolo scusate il leaning in difesa paolo prende posto sul monte che cosa succede questo determina che venga rimosso il battitore designato e che leone quindi prenda il posto nell'ordine di battuta che era del battitore designato assumendo invece la posizione difensiva che era del giocatore sostituito da paolo cioè angelo in questo caso la questo cambio a meno di ulteriori cambi determina la rimozione del battitore designato e da questo momento in poi la squadra non potrà più utilizzare questa figura la regola ci dice che se un battitore sostituto batte per un qualsiasi giocatore nel line up e successivamente entra a lanciare questo farà cessare l'utilizzo del battitore designato per il resto della partita un altro esempio di sostituzioni sempre in ottemperanza alla regola del battitore designato e e questo sempre stesse condizioni iniziali durante un la metà di inning difensivo per la squadra che sta utilizzando il battitore designato il manager decide di spostare leone all'interbase e mettere carlo a lanciare il cambio che avviene è questa sostituzione che determina la rimozione del battitore designato in quanto l'assunzione di carlo del ruolo di lanciatore fa cessare il l'utilizzo del battitore designato per cui leone deve prendere posto nel line up il posto che era del battitore designato originale la regola che sancisce questo è questa che dice se un giocatore in difesa sale sul monte quindi rimpiazza il lanciatore la sua squadra perde la possibilità di utilizzare il battitore designato per il resto della partita attenzione che per effetto delle regole sulle sostituzioni che nel baseball possono essere anche tacite può capitare specie nelle serie minori che magari un giocatore in difesa il seconda base in interbase faccia lo spiritoso prendendo la pallina e andando sul monte per quanto ci riguarda noi la dobbiamo considerare una una sostituzione del lanciatore che metterebbe in moto tutto questo meccanismo e quindi farebbe perdere l'utilizzo del battitore designato per quella squadra possiamo fare delle conclusioni su questa regola per vedere alcuni meccanismi che sono collegati un po marginali ma comunque collegati a questa regola per esempio un battitore designato non può stare nel bullpen a meno che non ricopra il ruolo di catcher per i lanciatori che si scaldano nel caso in cui ci siano competizioni tra squadre di club che appartengono a diverse associazioni diverse leghe magari in una lega viene utilizzata la regola del battitore designato nell'altra no dovremo comportarci come segue in gare dimostrative la regola verrà applicata se la squadra che gioca in casa appartiene a una lega a una lega che la utilizza oppure nelle partite all star verranno applica verrà applicata la regola del battitore designato solo se c'è un accordo tra entrambe le squadre altrimenti non verrà utilizzato io vi ringrazio per l'attenzione e questa sessione si conclude qua e vi rimando al prossimo appuntamento grazie a tutti